L'ultimo episodio Io esisto solo per proteggere Krypton È questo l'unico scopo per cui sono stato messo al mondo E ogni azione che io eseguo, non importa quanto violenta o crudele sia È per il bene supremo del mio popolo E adesso, io non ho più un popolo La mia anima È quello che davvero tu oggi mi hai tolto Me l'hai strappata Li tormenterò, li farò soffrire Questi umani che hai adottato te li porterò via Te li strapperò uno ad uno Tu sei un mostro, Zod E io ti fermerò No 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Può finire solamente in un modo, Kal. O con la mia morte, o con la tua. Sì, sì, sì. Sono nato per essere un guerriero, Kal. Mi sono addestrato a governare i sensi per tutta la vita. Tu dove ti sei addestrato? In una fattoria? Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì.